Aspetti un tocco di convincivolezza Ok Allora, intanto vorremmo far sottolineare che è un'associazione seria Perché hanno sempre Ma voi non avete gli occhi, non è anche da cominciare Ed è un'associazione che si occupa di giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di società, giochi di modellismo e 3D Cazzeggiamo E quanti legami di comando? Cazzeggiamo No, non lo sentite Un termine di bormesso C'è per dire Te lo spiegherò dopo Vabbè, te sei di qua Io sono di qua, tu sei di là Sì, perché sono venuto a fare come io sono No, tutto a posto C'è un posticino anche per Oh, fai finire Prego, fin Mi piaceva di più così Se c'era una cosa più aperativa Ci mangia il bellaggio Grazie Dolce Gabbana E lui è dolce Lui è più peloso di me Sì, che saremo amici per sempre Mi fido il mio guru Praticamente No, io c'è una guida spirituale che è ancora più È un gremlin a vivo di 150 milioni Ma mi devi far vedere chi è questa persona Cioè mi dice che è più peloso di me È andato via adesso a casa, porca miseria No, vabbè C'è una palla di pelo continuativo senza niente Non la lascia dal bocca Cioè distinguiamo qual è la faccia dal pizzetto perché è l'unica parte sagomata del pelo Viene sul nostro sito, possiamo amare Questo è davvero nudo Quando dorme è nudo Non dovrebbe essere nudo perché è tutto ricoperto da pelli No, no, ripeto, lo distinguete perché c'è il pizzetto sagomato La faccia la capire Ah, è l'unico che c'è il pizzetto inquadrato un attimino con una logica Cioè ci sono un attimino con un attimino con una logica